Ancora vetrine spaccate in via Vittorio Veneto ad Arezzo ad allertare i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, è stato un cittadino che si è accorto della vetrina rotta di una banca, la filiale di Intesa San Paolo. Danneggiata anche la vetrina di un negozio che si trova poco lontano, sempre in via Veneto, un rivenditore di sigarette elettroniche. Gli inquirenti escludono che si tratti di un tentativo di intrusione all'interno dell'istituto di credito, come del resto anche negli altri negozi. È un atto vandalico, basta, non si sa cosa è successo. Siete riusciti a fornire delle immagini ai carabinieri? Sì, abbiamo una registrazione, l'abbiamo data ai carabinieri, ci penseranno loro, vediamo se riescano a capire il perché e chi è stato. L'autore dei gesti si sarebbe volatilizzato portando con sé anche l'oggetto utilizzato per le spaccate, forse una spranga o un bastone di metallo. I militari stanno acquisendo, come di prassi, le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'istituto di credito, nella speranza che sia possibile riconoscere l'autore del gesto, che potrebbe essere lo stesso che lo scorso 13 aprile aveva fatto lo stesso ai danni di due negozi di parrucchiere, uno in via Veneto, l'altro in via Montegrappa, nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Intanto Mario Checaglini, direttore di Confesercenti Arezzo, nel farsi portavoce delle lamentere e dei commercianti nel quartiere, ha scelto di scrivere al prefetto Anna Palombi al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per chiedere maggiore vigilanza nella zona.